E fa la partenza, poi si sforza sulla porta, poi uno di me che pende il nuovo lavoro. Uno giù, dalla discesa, dalla discesa. giù che mette il pandale cioè deve solo svepolare e poi la gente giù da basso giù da basso che fa in là sulla pista con il vigile che ha fatto la partenza il vigile va qua con molti muori erotico alla pettorina gialla sono i corridori che si fermano se c'è un attraversamento poi mentre sta attraversando allora uno passegna le macchine e arrivano non è che loro passano arrivano che mi ha detto è davvero Grazie a tutti.